Ciao Vale, io sono in hotel qui a Londra, fa freddo, mangio malissimo, mi manca veramente tanto l'Italia, ho avuto pure un piccolo inconveniente col televisore che poi ti racconto. Ciao Ceci, ma sei la solita, cioè siamo uguali, ogni volta che facciamo qualcosa facciamo un danno. Comunque ti va di sentirci? Sì, ti prego colleghiamoci che ti racconto questa questione perché ho fatto un danno. Va bene, un minuto e ci sono. Siamo Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti. Questo è un podcast di Cora Media, si chiama Buonanotte. Ciao Ceci, come va? Ciao Vale, benissimo, tu come stai? Bene, ma ho visto dalle storie che non sei a casa? No, sono a Londra, sono in quarantena tra l'altro, quindi non è che mi sto spassando così tanto. Che gioia, mi sto vedendo la stanza tutto il giorno, quindi ho fatto una visita guidata in salone. Bellissimo, sono tornata in calavera. Ma poi ho visto anche che c'è un vento tipo assurdo. Sì, qui prima è scattato un allarme in tutte le stanze per avvisare che c'era troppo, insomma, forti raffiche di vento. Tu invece sei a Milano, cameretta, peggiorno. Io a Milano, Milano, oggi è stata una bella giornata, quindi qua almeno c'era il sole, si sta avvicinando un po' l'estate, però sì, adesso sono qui nella mia cameretta e mi stavo un po' rilassando, quindi ho detto chiamiamola Ceci, perché insomma, ormai l'avete capito, ci sentiamo sempre per raccontarci tutte le nostre avventure. Anche a distanza queste, stavolta, ci teniamo aggiornate. A proposito, ti tengo aggiornato su un danno che ho fatto, che è il classico che potresti tranquillamente fare anche tu. E niente, ieri non trovo il telecomando del televisore, perché qui c'è un televisore gigantesco nella stanza, e visto che non trovo il telecomando ho iniziato a cercare i tasti direttamente al televisore. Solo che non so cosa devo aver toccato e si è staccato il televisore dal muro, si è sentito un bozzo enorme e ora non so come riattaccarlo. Sì, sì, si è proprio staccato dalla parete e mi è caduto sui piedi e io con un televisore gigante a terra che si è tipo staccato, io spero ovviamente di non doverlo ripagare, non so come fare. Vabbè, e anche oggi, come nelle altre, nelle scorse puntate, ascolteremo i vostri vocali che ci avete mandato, quindi grazie mille, sono sempre super piacevoli da ascoltare, perciò io direi che iniziamo oggi, introducimi il tema. Vai, sparalo. I doti musicali, strumenti complicatissimi, veramente di studi di anni per suonare il triangolo. Guarda che il triangolo non è evidente. Infatti il triangolo poi ho scoperto che è difficile da suonare, però immagino che non ci fosse tutta questa maestria nel suonarla da parte della tua amica, suppongo. Vabbè, eravamo una grande band e quindi insomma la canzone faceva L'amicizia è un dono prezioso, è un tesoro nascosto ovunque tu vada. E niente, questo era un piccolo assaggio. Certo, i live in paese con spettatori due capre e tre bruchi. Sold out oppure? Tutto sold out. Tutto sold out, due capre e tre bruchi, cinque posti era. Un piccolo stadio, ok? Però era sold out. Allora, io mi ricordo una cosa molto tenera che prima di... Allora, mia mamma quando era incinta aveva fatto amicizia nel paese, noi abitiamo in paese, con un'altra mamma incinta e le mamme tra loro si mandavano delle letterine come se parlassimo noi figlie nella pancia. Cioè, non so come spiegarti. E quindi io da grande ho ritrovato un biglietto di questa mia amica che si chiama Rebecca che è appunto... Ah, è ancora tua amica? Sì, siamo ancora amiche ma non è quella Rebecca, è un'altra Rebecca ma siamo comunque amiche. E il bigliettino diceva tipo Auguri per la tua quasi nascita, sono la tua prima amica. Tipo dalla tua prima amica, perché lei era la mia prima amica perché non era ancora nata, già eravamo amiche, no? Che bella questa cosa! Sì, e le mamme si scrivono i bigliettini e quindi a tutti i compleanni le cose io la sento e ci scriviamo sempre auguri, prima amica perché è la prima amica della mia vita. Senti Vale, ma parlando di amicizia, tu come stabilisci se uno è conoscente, amico, migliore amico? Cioè, secondo quale criterio, su quale basi dai queste definizioni? Allora, all'elementare facevo una cosa molto cringe, ovvero la classifica. Avevo la migliore amica del cuore, numero uno, poi numero due, quella un pochino meno. Penso che è brutto essere la migliore amica del cuore, numero due. Cioè, è una cosa che è proprio... Ho trovato una lista a casa mia in Svizzera, in un cassetto, dove appunto scrivevo la classifica e l'aggiornavo ogni giorno, perché ogni giorno all'elementare e alle medie c'erano i litigi classici. Posso una gomma? No, no, no. Allora scalavi e passavi dal secondo posto al quinto. E quindi, insomma, prima era una cosa molto così. Adesso, invece, allora, ho tante persone che conosco e con cui mi piace stare. Quindi, tanti conoscenti, barra amici, con cui mi piace passare del tempo. Però, gli amici veri, veri, quelli proprio con cui mi confido e che rimangono anche, nonostante magari la distanza e il non sentirsi sempre, sono pochissimi. Cioè, letteralmente tre, quattro, veramente pochi. Però, alla fine, ho capito che è meglio pochi, ma buoni, ecco. Giusto, è una bella consapevolezza. Penso che ci voglia un po' arrivarci. Viene dici di ascoltarci un bel vocale. Vai, te l'appoggio, sentiamo. Ciao Ceci, ciao Vale, come state? Mi chiamo Francesca, ho 14 anni. Ciao Francesca! La mia migliore amica abita in Germania, anche se italiana. Siamo cresciute insieme all'estero, fino ai cinque anni quando mi sono trasferita in Italia. E ci sentiamo tuttora adesso. Per il mio complanno mi ha mandato un quadretto con metà di una frase, una delle mie citazioni preferite di Grey's Anatomy, You are my person. E io per il suo complanno voglio fare la stessa cosa, però mandandole l'altra metà della frase, You always be my person. Che carino! Siamo molto, molto legate, anche se abitiamo un po' distanti. Non la sento molto questa distanza, perché fidarsi l'una dell'altra, essere sempre disponibili l'una per l'altra, secondo me è una cosa molto importante nell'amicizia. Niente, ciao! Bellissimo! Ciao! In realtà ti dirò, io ho un po' un'amicizia simile, perché io poi non ho una migliore amica in realtà precisa, però ho un bel gruppetto di amiche strette. E diciamo che una delle mie migliori amiche vive in Svizzera e l'ho conosciuta in Inghilterra, a caso in una vacanza studio, perché era l'unica italiana in tutta la scuola e quindi io ero rimasta fuori dalla stanza, perché sono un danno, quindi avevo dimenticato dentro le chiavi. Ho sentito una voce che parlava italiano in un'altra stanza, quindi ho bussato, ho fatto, vi prego fatemi entrare, sono chiusa fuori. E quindi abbiamo iniziato a chiacchierare e mi fa guarda che io non sono italiana, però sono Svizzera. E io, ah, anch'io! E di dove? Di Lugano? Anch'io! Che scuola fai? Liceo scientifico? Anch'io! E quindi abbiamo scoperto di andare nella stessa scuola e tutto. E adesso, nonostante comunque io sia a Milano e lei in Svizzera, ci sentiamo sempre e non ci vediamo spesso, ma abbiamo una bella amicizia. Io ho una migliore amica invece da quando... Allora, io ho molte amiche strette e poi diciamo due migliori amiche. Una storica, che è Rebecca, che saluto, che conosco da, boh, dalla prima alimentare, quindi saranno, non lo so, prima alimentare quanti anni hai? Sei anni, moceo, no? Eh, un bel po'. Quindi insomma, una bella fetta di vita, la maggior parte della mia vita. Abbiamo fatto viaggi, tutto insieme, e abbiamo un rapporto stranissimo, perché ci siamo fatte un sacco di infamate, infatti tantissime persone dicono che è stranissimo che siamo amiche, rubati fidanzati, che ho fatto qualsiasi cosa, sì, sì, sì. E tutti, ma come fai a esserci un commento? Perché? Cioè, siamo ancora amiche perché, cioè, ci vogliamo troppo bene, tutte cose che magari abbiamo fatto da piccole, ma, cioè, da piccole facevamo le cose sgravate, più siamo cresciute, più abbiamo fatto viaggi stranissimi, in cui ci ritrovavamo che non prendevamo l'albergo prima, ci ritrovavamo di notte a cercare un posto dove dormire. Ok. Qui a Londra, dove sono adesso, mi ricordo tantissimo una mini vacanza che abbiamo deciso, tipo tre giorni prima, mi ho fatto, oh, venerdì andiamo a Londra. L'unica persona al mondo mi avrebbe detto sì, e lei mi ha fatto, dai, andiamo a Londra. Mi ho preso e siamo andati senza prenotare nulla, se mi arrivate abbiamo iniziato a girare, è tipo i migratis, no? Che scroccavano, quindi abbiamo iniziato a scroccare da tutte le persone che conosciamo qua a Londra, ci siamo ritrovate di notte al casino, abbiamo fatto le peggio cose, trascinate da persone, cose, quindi devo dire che follie ce ne sono tante. Bello. In generale ne ho fatte di cavolate, e in realtà alle medie ero abbastanza una gangster, e quindi con una mia amica in particolare facevamo un sacco di cose, ad esempio scoppiavamo petardi ovunque, la normalità. Sì, sì, facevamo tutte le stelle di Zeus con la polvere da sparo, boom, boom, boom. Poi andavamo a vedere l'hockey in curva, tutte queste cose un po' così da ganza. No, tu devi vedere l'hockey, cioè non è da avere quelle partitelle di calciotto. Calcio da noi se lo filano in pochi, cioè da noi c'è il derby di hockey, Ambri Lugano. No, vabbè. Tutti i cori sono talmente dipendente. Ma tutti i cori, bellissimo, bellissimo. Mi manca troppo. Calcola mi ricorda troppo a Matthew or Mother, che Robin è canadese, vanno sempre a vedere l'hockey, e lei è registrata con l'hockey. E Vale, ci sentiamo al prossimo vocale? Vale fa rima con vocale, tra l'altro. Ciao, Vale. Ciao Ceci. Volevo raccontarvi di quando ho rivisto il mio miglior amico appena finito il primo lockdown. Non mi scorderò mai di quel momento. Non ci vedevamo da un sacco di tempo, perché lui era stato male, io ero partita prima che lui stesse male. Insomma, è stata un'emozione veramente indimenticabile. Vi voglio bene, un bacio. Ciao tesoro, un bacio. Ti vogliamo bene anche noi. Esatto. Ed è bello anche il rapporto col miglior amico. Tu hai un miglior amico maschio. Io in realtà no, però ho tantissimi amici maschi. Cioè io in realtà non è che ho una migliore amica o un miglior amico, però in generale ho molti più amici maschi che amiche femmine. Cioè io mi trovo veramente meglio proprio per il mio carattere, anche la mia voglia di fare anche cose magari un po' estreme, folli, e quindi insomma con i ragazzi mi trovo veramente molto meglio in generale. E quindi sì, secondo me l'amicizia tra maschio e femmina esiste. Tanti dicono... Per me dal momento in cui è amico, è amico. Però prima di diventare amici magari è capitato che con uno o due di loro magari inizialmente fosse stata un'attrazione, magari era tipo ci sentiamo, ci siamo sentiti una settimana e a un certo punto magari ci siamo resi conto semplicemente che non faceva per noi, perché comunque per iniziare a sentirti, frequentarti, metterti insieme con una persona, deve esserci un certo tipo di feeling, di scintilla. Se non la senti vuol dire che è un amico e quindi ho creato dei rapporti super stretti d'amicizia. E tu invece, Jodie, è geloso dei tuoi amici maschi? Sì. Lui vabbè in generale è abbastanza geloso e a me è capitato che magari un mio amico ci provasse un po' in alcuni momenti oppure io che mi innamorassi del mio miglior amico, tipo alle medie mi è capitato. Però dal momento in cui c'è amicizia, per me significa che non riuscirei a vedere la persona in altro modo. Ormai sono stanca alla sera, non riesco più a parlare. Vale, ci ascoltiamo adesso il prossimo vocale. Non puoi dire di no, Didi, no? Ci sto. Ciao, sì, ciao, Vale. Io non ho molti amici, anzi, non ce l'ho per niente. No, sì, mia amica. E questa cosa perché quando mi crea un'amicizia ci deve essere sempre qualcuno a distruggerla e che possono essere familiari, altri amici. E questo qua mi porta a contare sul disclusivamente su me stessa. Tipo, io ho molti amici maggiorari, a me piace molto Harry Potter, quindi mi trovo a fare, che ne so, a provare dello shifting. Quindi se magari non potete dare consigli su come far dare un po' di più l'amicizia. Un bacio, siete veramente fantastiche. Grazie mille. No, no, non ti posso sentire. Allora, adesso sei nostra amica perché non posso sentire così esci con noi. Piccola. Comunque, io consigli per fare amicizia, in realtà ne ho, penso anche Vale. Sì, sì. Ci sono tantissimi modi in cui puoi fare amicizia. Puoi innanzitutto entrare a far parte di un gruppo che magari è già formato, così con una botta sola prendi due piccioni con una fava, fai amicizia con tutti quanti e paghi uno, prendi dieci. Oppure ormai ci sono tantissimi veramente modi, esistono i social, puoi fare uno sport, puoi fare amicizia con le altre persone, corsi. Io sono molto diretta in generale. Io proprio ci vado lì e dico, non so, ti andrebbe di uscire oppure di sentirci. Secondo me è un buon metodo perché comunque non stai a fare tanti giri, ma vai direttamente dalla persona e penso che faccia piacere a tutti, insomma, ricevere una proposta del genere e difficilmente qualcuno si tira indietro. Però capisco anche che magari non è così semplice andare direttamente da una persona e essere così diretti. Però bisogna anche lasciarsi andare qualche volta. E prossimo vocale, che ne pensi? L'accendiamo. Ciao, io sono Elisabetta, ho 14 anni. Ciao, Betta! E niente, volevo dire che io ho un'amicizia con la mia migliore amica da otto anni. E prima ci odiavamo, proprio ultimamente. Ah, così, ottimo inizio. Eravamo in classe insieme e una volta era pure tirato un calcio sul naso e l'ho fatto uscire sangue per farmi capire. Ah, delicata! Ci siamo riavvicinati, in quinta elementare abbiamo iniziato a parlare un po' e adesso siamo migliore amiche. E abbiamo un rapporto, come ce l'avete, vale Cecilia, come ce l'avete voi. Che carina questa cosa che hai detto! Che carina questa cosa che hai detto, uno. E due, pensa per raccontare che la tua amicizia con la tua migliore amica è iniziata con un calcio rotante in faccia. Ma quindi, più o meno è rimasto uguale, perché se è uguale alla nostra... Sì, se è pure noi calcio rotante in faccia. Quando Ceci mi dice vengo a Milano, l'aspetto in centrale, calcio rotante e via. E ritorno, arrivo solo per farmi notare. Torni a Roma. Ti è mai capitato di non sopportare una persona e poi all'improvviso magari ti scatta qualcosa nel cervello e fai forse non mi sta così antipatica e diventa amicizia subito? No, ma al contrario sì. Ah, Ben! Nemmeno a me mai capito. Ah, forse sì, aspetta! Posso dirlo pubblicamente perché un po' fa ridere, ma non era... Non mi stava antipatica, però io ero molto invidiosa di una ragazza che fa video su TikTok di cui farò anche il nome perché adesso siamo amiche. Ah, ho capito. Giorgia? Sì, io ero molto invidiosa di Giorgia Malerba perché avevamo gli stessi amici, facevamo gli stessi video, tutti quelli che conoscevano me e poi conoscevano lei e dicevano che era troppo simpatica e io lì che facevo questo. che rosicavo, rosicavo, rosicavo. Poi l'ho conosciuta ed è una grande, quindi siamo diventate amiche. Ma inizialmente ero invidiosa e dicevo a tutti quanti io sono invidiosa di Giorgia Malerba. E invece adesso siamo amiche, è una grande. Tra l'altro, Ceci, noi, ti ricordi come ci siamo conosciute? Io mi ricordo benissimo. Sì, io mi ricordo com'è rivestita. C'è una cosa... È vero, coi pantaloni, tipo... Avevi il pantalone di serpente. Sì, sì. E c'era Paggi, stiamo a casa dei Q4. Esatto, vecchia casa Q4. Sì, io ho già sentito parlare, ovviamente, sui social tv.